Ehm, è un uomo morto per strada? Poveraccio Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale, siamo ancora qua con Johnny Ehm, è un uomo morto per strada? Poveraccio Ehm, niente, GTA 4 The Lost End Ended, siamo... Non verso la conclusione della storia, ma comunque siamo molto più di metà Ci rimane un'altra missione per Elisabetta Torres Vorrei farla per il gym, perché è vicinissima però Ehm, ne abbiamo fatte due di fila per Elisabetta, quindi Tidiamo a concludere Oh, 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 vieni qui Vieni qui, vieni qui Meta La casa di Elisabetta Torres, che ora sono le 3.55 del mattino Bellissimo Lei ovviamente a quest'ora è sveglia Ma anch'io, eh Tranquilli Le faccio compagna tranquillamente Comunque, shift in wait Andres, leave me, sono l'ho Do you know how I like it? You don't need to tell her shit Leave me... Hey, Johnny Hey, what's happening? Andres, shut the fuck up! Oh, yeah No, 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 no Shhh Shit's gotta get done All right, some other time then No, I don't think there's gonna be another time, man Shit's closing in And all these snitches all over the place Fuckin' hear that on your wiretap, Andres You fuckin' hear that? Maybe you guys should get rid of him And sell this coke later, huh? You want us to take Marta off your hands? Look after her until the heat's gone? You ain't hear hands on my baby girl You only gotta worry about yourself And selling that coke You don't gotta worry about me And you don't gotta worry about her neither, okay? Okay Hey, come on, let's do this Yeah, we out, son Adios, amigos Andrea's gonna be waiting for you That's right, I'm gonna be waiting for you And you and anybody else who shows up, okay? But that's the way I roll Cazzina è molto confusa Comunque, comando io La regata E quindi mandatemi avanti, grazie Anche perché sennò poi mi scogliono Mi sembra che tu stai rendendo tutto troppo facile per te e Clay No, ti sbagli, fra Oh, una donna così armata è sexy, però Mi gnocca You're a punk like you gon' find Listen, you do your job And let us do our Go ahead Is that fucking good? Yeah, good So what you gon' do about it? I'ma take it for our own I don't think so Well, you best change your mindset Cause this right here, man Yeah, motherfucker No No Ovviamente prende la coca, giustamente Allora Oddio, ma io sono quello che spara Cazzo duro No No, vabbè Ma che non l'ha mandato? Fuori Eh, ci mette un po' in non coordinarsi, eh Eccoli qui Oh, cazzo Colpi infiniti ad oro Bomba Non è mica finita, eh Oh, ma mi ha visti? Finito Ditemi che è finito Oh, merda Oh, mi hanno ripristinato la salute Adoro Anche perché Sennò sarebbe tipo Drammaticissimo Vieni Vieni An easy later Vieni, vieni, vieni Eccolo Eccolo, eccolo Oh, ma li lasciate tutti a me? Che è sta roba Che è sta roba? Bomba, com'è il cazzo l'è? Ok Speriamo Ah Solo la radio si può cambiare Vabbè Hanno fatto da loro Anche qua C'è tipo Ci vorrebbero 150 Cosi Giubbotti di protezione Per fare questa missione Perché È difficilissima Però ragazzi C'è Adrenalina A mille A posto Devo sicuramente andare A riprendere un po' di salute Perché qua La situazione è Molto drammatica C'è Sì, come and go? Do you have some bail money at least? The deal didn't happen. The buyer got smart. Pigs got involved. Our friends are heading back with the product. These couldn't get much worse here, you know. You know, these is tough times. You must stay away from me and Mara for a while, huh? See you. All right, baby. Just don't get freaked out if you see me rolling in a cop car. Weird times call for weird measures, Liz. And then... And then... Mmm... Niente, they're a po' un cacchiata Elizabeth Torres e... Certo, potevano far fuori anche lui, però. Vabbè. Scelte di vita. Where cazzo esco? Va qua. Vabbè. Taxiii. Per l'appartamento perché devo salvare assolutamente. E quella dopo sarà per Jim. Eh sì. Don't play with the window. Don't play with the window. Praticamente da queste avventure non sta guadagnando un cazzo Johnny. E con questo ragazzi vi saluto. Shifting weight è finita. Grazie ragazzi della visione. Lasciatevi al video. Iscrivetevi al canale. Noi ci vedremo per la prossima missione che sarà per Jim. Tra l'altro è vicino, quindi magari per una volta possiamo anche evitare di prendere il taxi. Grazie ragazzi. Ci vediamo. эп Buscari. Vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.